... Bart! Roland Barthes è uno che ha parlato molto, che ha scritto molto sull'amore. Lui descrive l'amore come una malattia. Descrive il desiderio, l'attrazione come una febbre alta che fa male. E l'innamorato come un piccolo bambino con un pisellino eretto. Mi fa ridere la parola pisellino. Un po' come il giovane dio Eros. Ma le cose più belle che ha scritto, le ha scritte cercando di descrivere il dolore di chi viene lasciato. Se mi ricordo le sue parole, sentite che belle, queste sono molto belle. Io sono come una valigia abbandonata in una stazione piena di gente che passa senza curarsi di me. Scusi, prof. Prof, le vado dietro. No, no, lascia stare, ci vado io. Ripensate a quello che vi ho detto, Roland Barthes, mi raccomando. Ciao. Ciao. Senti, ho sentito Matteo, mi ha detto che manco tu stai andando a scuola. No, devo finire in sta modo, l'ho promesso a un amico. Ah, un amico, eh? Quante cazzate che spari. Per quello che vuoi d'accordo con i padri, ho assomigliato, eh? Ti sei dimenticato la sera che ero là? Ho visto e sentito tutto. Ah, hai visto e sentito tutto? Eh, sì. No, non me lo so scordare. Quindi è vera la storia? Che gli hai rubato la moto per sistemarla, fargli vedere quanto sei bravo? Eh, così funziona. Prima la riparo, poi la porto così. Sai, rivendono, no? E te che ci guadagni? Mamma mia, quante domande, oh. Noi siamo andati a Laura. In questa faccia la vedi, Laura? Perché sembrava un funerale, oh? Eh sì, sembrava un funerale. Eh, sì. Oh, se vediamo. Se vediamo al cimitero, se vediamo. No, tiè. Laura, ci ho pensato. Eh... Non so bene come dirtelo, ci ho pensato tanto e mi dispiace. Mi dispiace tantissimo. Ti dispiace cosa? Spiegati, non capisco. Ho pensato che le cose non possono andare. Mamma che dici? Mi dispiace. Ma... Ho fatto qualcosa che... No, 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 no. Non sei tu, veramente... Non può andare. Ma perché? Che... Che è successo? Era tutto così... bello. Lo so, davvero. Non è questo il problema. Il fatto che... Non provo le cose che provi tu, Laura. Mi stai dicendo che non mi vuoi bene? Ma certo che ti voglio bene. Ma certo che ti voglio bene. Ti voglio tantissimo bene. Ma non è, amore. Ma che dici? Che stai dicendo? Laura! Oh, guarda, questa è nella zona tua, eh. La strada è di tutti, no? No, te sbagli. Qua non c'è questa. Ma chi lo dici? Lo dico io. Forse me lo ha spiegato. È un po' di tempo che ti vengo dietro. Ma te lo so... E prima che mi tocca lo faccio piangere. Hai capito? Padre tu che ci va piangere la gianura. Oh! TESAURO TESAURO Come va? Bene, parte papà. Avete litighato di nuovo. E che ha combinato questa volta? No, niente. Che me la vivo male con lui, lo sai. Ma vuoi che ci parli io? No. Assolutamente. E in ogni caso ti sto chiamando per un'altra cosa. Dimmi. Ma avevi detto prima di partire che avresti messo dei soldi sulla carta. Ma che l'hai fatto poi? Sì, certo. E quanto ci hai messo? 2000 euro. Però pensavo per evidenze particolari. Ma che c'hai, bisogno di soldi? Stavo pensando di vendere la Vespa. Ho trovato un'occasione, una motocarina, quindi ci stavo pensando. Ne hai parlato con papà? No. Te l'ho detto. Con lui in meno ci parlo è meglio. Tu stai bene lì? Il tempo fa schifo come dicono o no? No. Il tempo è bellissimo. E va tutto benissimo. Ottimo. Almeno una in famiglia è contenta. Vado che devo scappare adesso. Ti voglio bene tesoro. Fatti sentire anche tu. Ciao. Io vado. Tu vai, sei appena tornato. Dove vai, scusa? Sì, devo andare a fare i compiti e a studiare da Simone. A studiare da Simone, così all'improvviso? Manuel, dai, stavamo parlando. Manuel, dai. Sì, ma stavamo parlando, ma fra poco se piangereva. Era troppo sentimentale come cosa, non... Grande, Simone, mi arrivo. Senza di temi sarei buttato a Tevere. Dai, dire il tuo cuore. Grazie. C'è un'altra persona. Ma non è una ragazza. Ma non è una ragazza. Ma che dici? Che vuol dire che non è una ragazza? Tu... Tu non sei... Mi sono innamorato di una come me. Non è facile da accettare questa cosa. È per quello che ti ho lasciata. Anche se ti voglio un gran bene, un bene dell'animo, veramente. Però... Non sapevo come dirlo. Non sapevo chi dirlo. L'unica cosa che sapevo è che la prima persona che doveva saperlo... Eri tu. Egoista e stronzo! Manuel! Manuel! Oh! Manuel! Dici cazzo mia chicca? Devi smettere di prendere il culo. È rosicato per quello che ti ha detto? Eh? È rosicato perché non ci sono stato? Sono scimo io che non gli ho detto a nessuno che sei un procio. Perché è questo quello che sei? Sei un procio! Sono stato io. Cioè? È colpa mia. Ho organizzato tutto io visto che tu avevi le chiavi e le ho preso. Ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Giulio poteva morire questa sera. È probabile che ti cacceranno dalla scuola. Non è possibile... Ero felice. Bene? Per una volta ero felice. Era la mia festa. E te non te ne fregava niente. Non è vero. Perché sei sparito tutto il giorno. Perché sei sparito tutto il giorno. Non sono sparito. No, non è vero. Non sei sparito tutto il giorno. Ma finisci la cazzo! Non mi servono le tue scuse. Tu sei lo specialista delle scuse. Mi butteranno fuori da scuola? Sti cazzi, papà. Almeno non farmi innamorare. Fermati, madonna! Fermati! Lasciami! Fermati! Mi dici che c'hai? C'ho tutto! C'ho quella puttana che mi ha lasciato! Fermati! Ho detto fermati! No, lasciami! Non ti lascio, va bene? E non ti lascio perché ti voglio bene. Sì! 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 Un secondo! Senti girare! Ecco! Un secondo! Che devo fare adesso? Si può girare! Mi posso girare? Mi devo preoccupare? No! Perché? Allora mi giro! Sì! ma voi siete pazzi brava chicca mi voglio bene un battito perfetto che dura un momento